e quindi si si se ci impiccassimo quel cuore ricordi centri commerciali consulante denaro e casella vocale ho un sonno un suono un cono con sono quindi consumo i modi di privatizzare gli utili saranno gli ultimi a socializzare le perdite con numerosi sistemi di videosomiglianza per garantire la crescita l'equità e il consolidamento della composizione delle immagini dei sistemi di corpi senza prezzo corpi spuntati corpi liquidati consumati cotti se le falle quei cellulari sono caduti nella rete fotografate le orecchie con lo smartphone lavorare alla disintegrazione del questa è la vita di un uomo qua